Se fosse state a Baku avreste vinto con il 15 e 55. Allora un attimo, ho capito che le ragazze si devono cambiare. Presentiamole un secondo in modo tale che si possano far vedere. Poi magari teniamo un attimo Manuela Maccarani che è l'allenatrice. Allora Manuela, rimanete pure la camera nostra. Vediamo un attimo se riusciamo a inquadrare. Le ragazze sono nella nostra postazione per cui lasciamo per un attimo Pagan con la sbarra. Volevamo soprattutto presentarvi le azzurre della ginnastica ritmica che hanno vinto l'oro al mondiale, l'argento al concorso generale e un'altra medaglia d'argento ai 5 nastri. Allora ecco ragazze verso la telecamera. Volevamo fare una breve presentazione quindi prevede Manuela Maccarani.